Il futuro del territorio lo abbiamo messo in conto. Con questo slogan, la Banca di Andria, credito cooperativo, continua la sua espansione sul territorio andriese non solo. Questa mattina l'inaugurazione nel quartiere Europa di una nuova sede che ha chiamato a raccolta i massimi esponenti politico-istituzionali del territorio, a cominciare dal sindaco Nicola Giorgino. A Monsignor Luigi Manzi, arcivescovo della Diocesi, il compito di benedire le sale del nuovo istituto di credito votato a dare nuova linfa vitale all'economia del territorio, in un periodo delicato come quello attuale. L'apertura di questa nuova sede, ricorda il presidente di Banca di Andria, Paolo Porziotta, ci inorgoglisce soprattutto da nuova linfa al nostro percorso di crescita avviato soltanto nel 2007. Una tappa importante di un percorso che è iniziato già nel 2007 e che parte dal territorio di Andria, ma essendo una banca di credito cooperativo alla luce di questa nostra grande e meravigliosa realtà che è il gruppo bancario cooperativo, si estende, si abbraccia in sinergia con le altre realtà esistenti nel territorio a coprire tutto questo grande e meraviglioso territorio che è la BAT. Nel gennaio 2007 la nascita della sede di Via Don Luigi Sturzo, il 25 febbraio 2013, quella della filiale di Piazza Caduti sul Lavoro. Il 13 aprile 2019 il nuovo sportello al quartiere Europa. Ogni sei anni una nuova inaugurazione, una cadenza del tutto casuale, al contrario di quel fatturato che fa della Banca di Andria un punto di riferimento importante del territorio. I numeri e i risultati che si sono prodotti uno dopo l'altro sono il frutto di lavoro, competenza, professionalità, mi permetta di dirlo onestà, dedizione e amore per il proprio territorio. Questa è la ricetta semplice da un lato, diciamo con attenzione per realizzarla dall'altro, ma il messaggio che vogliamo dare a tutti è che si può fare e in questo territorio è anche bello farlo. Per Nicola Bitetto, direttore generale della Banca di Andria, credito cooperativo una nuova sfida a cui è chiamata a partecipare l'intera comunità andriese, non solo. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di essere vicini al territorio, in questo caso al quartiere, facendo del nostro meglio in un periodo che è difficile per tutti. Credo che sia una delle poche iniziative imprenditoriali andriesi che sta avendo un certo successo, per cui chiedo alla cittadinanza e ai residenti nel quartiere di sostenerci, di continuare a sostenerci perché Andrea merita di queste iniziative.